Petroglio, oro, grano, bestiame. Le materie prime sono la base dell'economia mondiale. Sono le risorse naturali scambiate nel mondo attraverso borse valute dedicate. Le materie prime si dividono in due tipi. Soft, materie prime agricole che comprendono caffè, zucchero, riso. E hard, ovvero metalli e energie come argento, petrolio, gas naturale. La produzione e il consumo delle materie prime dipendono da diversi fattori, tra cui domande offerta, condizioni atmosferiche, eventi economici e politici e il dollaro, dato che le materie prime sono solitamente quotate in dollari statunitensi. Questo significa che i prezzi delle materie prime possono variare notevolmente. Ma come si opera sulle materie prime? Le materie prime si scambiano su diverse borse valute, specializzate in tali mercati. Per esempio il NYMEX a New York, il LIFE a Londra e il SHME a Shanghai. Solitamente sono scambiate tramite contratti future, ovvero contratti che prevedono lo scambio di un'attività a un prezzo concordato e in una data futura. Ciò permette di scambiare i contratti senza dover possedere l'attività sottostante. Attenzione però, i prezzi delle materie prime possono essere caratterizzati da forte volatilità. È importante pertanto monitorare la posizione una volta aperta.